Salve a tutti, in questo video vediamo come rimuovere l'eco da una nostra registrazione audio in modo facile e veloce grazie ad una nuova funzionalità di Adobe Audition CC. Allora, questo è un audio che ho registrato e dà parecchio eco, sentite. Prova di registrazione, prova, prova, prova. Allora, cosa facciamo? Semplicemente metto un clic a caso qua nella traccia oppure seleziono una parte se vogliamo rimuovere l'eco solo a questa parte, in questo caso faccio clic qua, e vado su Effetti, Riduzione, Rumore, Ripristino, Rimuovi, Riverbero. C'è solamente questo slider da muovere, quindi a seconda di quanto aumentate questa quantità lui rimuoverà più eco, però più rimuovete l'eco più si peggiorerà la qualità della vostra registrazione. Vediamo su un 79% quello che succede. Prova, 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 prova di registrazione, prova, prova. Come potete vedere ho già ottenuto un ottimo risultato, però la qualità è un po' andata ad intaccarsi. Vediamo di ridurre un po' questo, quindi non vi consiglio di rimuovere del tutto l'eco, ma giusto di aggiustare un po'. 61% Prova, prova di registrazione, prova, prova, prova. Ok, sicuramente si capisce perfettamente quello che sto dicendo, quindi ad esempio se dovete togliere l'eco un po' da una conferenza, magari ecco l'importante è che si capisca bene il parlato, quindi in questo caso va benissimo così. Sentiamo come era senza. Prova di registrazione. Con. Prova. 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 Come avete sentito c'è una grandissima differenza, quindi consiglio di lasciare questo come settaggio, che considera tutte le frequenze, e di utilizzare semplicemente la quantità. Quindi trovare un punto di incontro, oppure rimuoverlo del tutto, ma se vado a 100 sicuramente si peggiorerà la qualità in un modo impressionante. Sentiamo. Prova di registrazione. Prova. Prova. Vedete, mi ha ucciso la voce praticamente, però diciamo a un 70 già si otteneva questo risultato più o meno, senza ammazzare il timbro. Prova di registrazione. Prova. Prova. Quindi faccio applica qua nell'editor Formadonda appunto, quando ho finito ed ecco fatto. Abbiamo rimosso, comunque ridotto enormemente l'eco presente nella nostra registrazione audio. Prova. Quindi vi basta sperimentare con quel settaggio, nulla di più. Un saluto a tutti.